Sì, era importante vincere la partita, poi è chiaro che il risultato che è giunto da Chieri ci dà sicuramente una mano e ci dà la possibilità adesso di concentrarci su una settimana di lavoro che ci porta alla partita con Soverato che potrebbe essere una partita decisiva. Chiaro che vorrei che vivessimo la settimana come abbiamo sempre fatto dall'inizio della nostra stagione, il 18 agosto, abbiamo qualche problemino fisico, sono state bravissime le ragazze in questa partita perché ci siamo allenati poco e ci siamo allenati non benissimo per via di questi problemi, Elisa Cella devo fargli i complimenti perché ha stretto i denti nonostante due allenamenti in 14 giorni con un problema al ginocchio, lo stesso vale per Andrea, per Iana, Lulama, debilità dall'influenza, questa è una squadra che sta facendo grandi cose e che soprattutto fa vedere di essere squadra anche quando ha dei problemi, non ci piace nasconderci dietro un dito, non prendiamo i nostri problemi come Alibi e questo l'abbiamo dimostrato oggi scendendo in campo con una grande determinazione nonostante sapremmo di non essere assolutamente al meglio. La Crema rimane comunque una squadra di alto livello, di ottimo livello con delle ottime individualità, giocatici di grande esperienza per cui è normale che appena abbassi un pochino la guardia, a noi ci mancava un po' di ritmo nelle gambe ma era frutto del fatto che questa settimana non ci siamo allenati come dovevamo, quindi era normale pensare a una partita, io l'avevo parlato anche con le ragazze in cui ci sarebbe stato da stringere i denti per l'incapacità magari di mantenere come in tante altre occasioni abbiamo fatto il livello medio molto alto, sapevamo di poter andare incontro a degli alti e bassi ma ripeto, per come è stata la sezione d'allenamento che ci ha vincolato, ci ha fatto mancare un po' di gioco nelle gambe. Poi credo che un secondo set sia stato determinato a qualche distrazione forse, tre o quattro palle che sono cadute un po' inopinatamente ma una lucidità mentale che comunque è mancata in quell'occasione per un discorso secondo me di affanno fisico ma le ragazze sono state bravissime a recuperare subito la lucidità, a ritornare subito molto determinata al terzo set. Guarda, noi avevamo impostato la gara proprio con l'idea di forzare il servizio perché sapevamo che loro poteva essere un problema gestire il nostro servizio, abbiamo battuto molto bene, la Brusegan, Iana hanno battuto molto bene e più che altro per noi il servizio poteva essere un fondamentale importante nell'economia della partita proprio perché sapevamo che in qualche modo sarebbe stata una partita molto sofferta. Questa è una grande squadra che sa gestire le situazioni anche nei momenti di difficoltà, noi lo sapevamo che per scendere in campo questa non sarebbe stata una partita facile, al di là del valore dell'avversario, credo proprio per le nostre condizioni che non erano sicuramente ideali. E' una partita molto importante questa vittoria e secondo me, grazie all'aiuto del gruppo, del tanto lavoro in palestra, siamo riuscite a raggiungere questi tre punti fondamentali. Nelle secondo set, dopo una vittoria netta nel primo, cosa è successo? Un po' di calo, di intensità oppure secondo te Crema si è ripresa bene? Beh sicuramente c'è stato un accenno di calo nostro, però comunque il Crema si è fatto vedere, però come sempre tutte insieme riusciamo sempre a saltarci fuori. Sicuramente non bisogna montarsi con la testa, rimanere concentrati, lavorare e chiaramente vincere. Un piccolo appello al pubblico di Parma per riempire il Palaraschi domenica. Venite a vedere che potrebbe essere una delle partite più belle che rimarranno nella storia.